Francesco Bianco, avete festeggiato questa vittoria, un'altra vittoria perché la Torres continua a vincere, oggi assolutamente meritato. Sì, oggi è stata la stessa vittoria di fila per noi, siamo contenti e dobbiamo continuare così, con questa voglia di combattere in campo e di dare il massimo per questa squadra e per questa città. Il mister ha detto che a certe volte questi ragazzi mi sorprendono perché giocano anche con una certa spensieratezza, fanno le cose come dovrebbero farle senza tensione, oggi lo chiedo a te che sei uno dei più giovani, ma c'era della tensione e in che modo poi l'hai scaricata in campo? Sì, c'è sempre tensione durante la partita, questa è una partita come le altre, siamo entrati con la voglia di dimostrare quello che vogliamo. Ed è andata bene. Questa squadra tu vedi che sta cambiando col corso degli allenamenti, dei mesi, ci sono dei miglioramenti? Io l'ho chiesto anche al mister questo. Sì, io vedo dei miglioramenti da parte di tutti, tutti diamo sempre il 100%, nessuno escluso, giovani, grandi, tutti quanti. Sei felice? Sì, sì, sono felice. Sei felice, grazie a Francesco Bianco. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.